La Bartocini forte in fissi Perugia lotta con tutto quello che ha, ma non può fare nulla per fermare lo strapotere dell'Aimoco Volle Conegliano che si impone 3-7-0. L'avvio della prima frazione è in equilibrio. Le ospiti vanno sul 15-20 con l'incontenibile Gonu e allora Bovary chiama il tempo. De Cruyff, ancora Gonu e Adams mettono a terra oltre tre punti che da soli valgono il prezzo del biglietto. Il risultato è 16-23. Perugia accorcia sul 18-23 con Albrecht e il muro di Koulas, ma l'Aimoco chiude il 18-25 con Silla. Secondo set il punto di Avelko va spezza allo sprint di Conegliano che era partita fortissimo con Far e il muro 1-3. Perugia prova a risalire con Ortolani, ma Silla mette a terra due punti consecutivi e Bovary è costretta a chiamare il minuto di sospensione sul 6-10. L'Aimoco controlla il gioco senza problemi e con il muro su Carca se sottiene il 12-21. La squadra di Santarelli non ha problemi e chiude il 15-25 con il pallonetto di Giacchel. Il terzo set vede Perugia portarsi 5-3 grazie a un errore di Adams e a Carcassess. Poi Conegliano ribalta tutto con il muro di Silla e la solita Gonu 5-8. Wolosce regalava una magia per il 12-16 e le Venete continuano a premere sull'acceleratore per arrivare al 13-18. La panchina della Bartoccina allora chiama il time-out. Le ospiti rallentano e le Umbri si portano sul 18-20 con Carcassess, un errore dell'Aimoco che si rifugia anch'essa nel time-out sul 18-20. Ortolani riporta le magliette nere a stretto contatto 20-21. Par in primo tempo porta l'Aimoco sul 21-23, poi l'errore di Carcassess regala il match point alle ospiti che chiudono 21-25 con il muro di Egonu. Non abbiamo secondo me fatto una partita brillante, sicuramente possiamo spingere molto di più in tutti i fondamentali, però va bene, ci portiamo a casa questi tre punti.